In una sala social affollata di imprenditori agricoli ed addette ai lavori si è tenuto il PSR Campania 14-20, incontro voluto dalla Cassa Rurale d'Artigiana di Battivaglia e Montecorvino Rovella all'indomani dell'approvazione del nuovo bando del programma di sviluppo rurale della Campania per il sostegno alle aziende agricole ed il rafforzamento di quelle danneggiate dalla calamità naturali. Presente all'incontro in qualità di relatori il vice direttore dell'istituto di credito battivagliese dottor Danilo Trabacca, il dottor Carmine Maisto, agronomo tesoriere dell'ordine dei dottori agronome e forestali della provincia di Salerno, Alessandro Ghezzi di Crea Banca Impresa e Angelo Candura del gruppo assicurativo Assimoco. Dopo il saluto di benvenuto del vice presidente dottor Camilo Catarozzo, emozionante il ricordo del compianto Alessandro Paraggio, ex vice presidente nonché socio storico della cooperativa di credito battipagliese e agricoltore egli stesso. Siamo partiti sostanzialmente da un rapporto di collaborazione con i tecnici che assistono le aziende nella presentazione e nell'elaborazione dei loro piani e programmi di investimento. Attraverso loro abbiamo creato una rete di informazione, abbiamo chiesto di veicolare quelle che erano le opportunità che la banca poteva svolgere sul territorio per gli imprenditori agricoli. La partecipazione è stata numerosa, di che ci ha fatto piacere e che vuol dire che il sistema di rete a cui abbiamo pensato è un sistema di rete virtuoso. È fondamentale con la partenza dei piani di sviluppo rurale avere l'appoggio da parte di un istituto bancario come la BCC molto legato al territorio e che può sicuramente favorire lo sviluppo del territorio e lo sviluppo delle aziende agricole. La sinergia del momento, cioè che lega la prossima uscita dei bandi del PSR con la volontà dimostrata con incontri tipo quello che si è fatto stasera da parte della BCC, lasciano ben sperare che le cose si incamminino verso la giusta direzione. Il collegamento col diretti tra i giovani imprenditori della provincia salernitana e la cassa rurale di Battipaglia sono assolutamente molteplici. col diretti è un'antenna parabolica ricevente e trasmittente di esigenze di credito, di esigenze progettuali, di esigenze di innovazione da parte dei giovani imprenditori. Nella banca di credito cooperativo di Battipaglia sicuramente queste idee, queste innovazioni, questa progettualità può avere un supporto importante con una banca che accompagna questi processi anche dal punto di vista del credito con una particolare attenzione al merito creditizio che spesso i giovani non hanno. Grazie a tutti.